I percorsi di studio, il forum sull'Ampedusa e il premio Empedocle, le annuali iniziative dell'Accademia di Studi Mediterranei ad Agrigento, Giuliana Amicicchè. L'Accademia di Studi Mediterranei ad Agrigento, di cui è presidente onorario la professoressa Suntina Gallo, nell'ambito dell'edizione 2017 dei percorsi di studio, ha organizzato il terzo forum internazionale Lampedusa Ieri e Oggi, Uomini in Cammino, che si svolgerà mercoledì 29, giovedì 30 novembre, dalle ore 9.15 in poi, a Casa San Filippo, sede dell'Enteparco della Valle dei Templi. Più nel dettaglio, mercoledì 29, introduce i lavori l'Avvocato Diego Galluzzo, presidente dell'Accademia di Studi Mediterranei, e poi, nel corso della sessione Lampedusa Ieri, presieduta dal professor Vincenzo Fazio, relazioneranno il magistrato Salvatore Cardinale, il professor Don Luca Camilleri, la direttrice del Museo Griffo, l'archeologa Gioconda Lamagna, e il giornalista Giacomo Glabiano. Poi, giovedì 30 novembre, si svolgeranno due sessioni Lampedusa Oggi. Nel corso della prima, presieduta dall'Avvocato Massimo Fedeli, relazioneranno il professor Don Carmelo Mezzasalma e il professor Don Alessandro Andreini. E nella seconda, presieduta dal prefetto Nicola Diomede, relazioneranno il dottor Rocco Gumina e il professor Giovanni Occhipinti. Poi, ancora a Casa San Filippo, venerdì 1 dicembre, dalle ore 9.15 in poi, si svolgerà una tavola rotonda, presieduta dal prefetto Diomede, intitolata I giusti di tutto il mondo. Relazioneranno Monsignor Enrico Dal Covolo, il professore Giovanni Fiandaca, il questore Maurizio Auriemma, la professoressa Maria Cecilia San Giorgi e il professor Gabriele Nissim. E a seguire, alle ore 12, lungo la Via Sacra, nei pressi del Tempio della Concordia, nel Giardino dei Giusti, sarà la volta di una cerimonia di dedicazione di 5 alberi e di 5 stelle a Pietro Rossano, a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e la Fedele Scorta, a Boris Giuliano, a I giusti. E a Moshe Beischi, il datore dei Giardini dei Giusti di tutto il mondo. E in conclusione, sabato 2 dicembre, alle ore 16, al Teatro Pirandello, è in programma la cerimonia del Premio Internazionale Empedocle per le scienze umane in memoria di Paolo Borsellino. Nella sezione Dialogo Interreligioso e Riconoscimento, sarà assegnato al professor Yawad Al-Khoi, segretario generale dell'Al-Khoi Institute in Iraq. Nella sezione Il Bene Culturale dell'Archeologia Sacra, dal Monte Nebo al luogo del Battesimo di Gesù, al padre professore Eugenio Agliata, archeologo francescano. Nella sezione Umanità e Solidarietà, all'ingegnere Pasquale Pistorio, filantropo, fondatore della Pistorio Foundation. E nella sezione Paolo Borsellino, la legalità, al dottor Luciano Portolano, generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, capo di Stato Maggiore della Light Joint Force Command di Napoli. Riconoscimenti al dottore Filippo Lispenza, prefetto, direttore centrale affari generali della Polizia di Stato, e al dottor Massimo Achini, presidente centrosportivo italiano di Milano.